A puntare il dito ancora una volta all'indirizzo della sindaca Cecilia Francese Battipaglia di Cenò, che con un attivista in una nota definisce silenzio assordante la mancanza di ogni risposta o interazione con chi che sia da parte del primo cittadino sul tavolo tecnico per l'ambiente, sottolineando come siano trascorsi più di due mesi durante i quali non si hanno notizie alcune sulla situazione. Fin dalla nascita del comitato Battipaglia di Cenò tra le richieste c'era la necessità di un tavolo tecnico per l'ambiente permanente con comune associazioni ed esperti del settore, richiesta mai accolta. Siamo al 7 settembre, le ferie sono terminate, dovrebbe essere tornata alla normalità la vita istituzionale, ma di convocazione del tavolo tecnico nessuna traccia. Insomma, si prospetta una nuova crisi di fiuti a Battipaglia dopo un periodo di relativa calma.